La Guardia di Finanza di Enna ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per 700.000 euro nel corso di un'indagine che vede indagati per una serie di reati 12 imprenditori originari della zona dei Nebrodi. A disporre il sequestro è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, sul richiesta della Procura. L'inchiesta, ribattezzata Coda di Volpe, era stata avviata due anni fa per contrastare un presunto giro di frodi realizzate, secondo l'accusa, tramite la percezione dei fondi che l'Unione Europea concede per le attività agricole. Riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e truffa aggravata per ottenere i fondi pubblici, i reati contestati a vario titolo ai 12 indagati. Secondo la ricostruzione di magistrati e investigatori era stato effettuato l'acquisto di fondi agricoli da parte di alcuni imprenditori compiacenti, attraverso il reinvestimento di guadagni illeciti originati da truffa ai danni dello Stato e dell'Unione Europea, perpetrate da famiglie di agricoltori contigui ad ambienti criminali. Decisivo, sempre secondo l'accusa, il ruolo di altri indagati, i quali si sono prestati a ricevere sui propri conti proventi illeciti, per poi destinarli agli investitori. Procedura utilizzata per impedire di risalire alla provenienza illegale del denaro e dagli effettivi beneficiari di tali investimenti. Un altro degli espedienti utilizzati dagli indagati per evitare eventuali provvedimenti di sequestro era quello di evitare, una volta sottoscritto il contratto preliminare ed essere entrati in possesso del terreno, di formalizzare con atto pubblico la compravendita, facendo così in modo di far risultare il fondo agricolo di proprietà del venditore, il quale, incassato il corrispottivo e temendo il carisma criminale delle persone coinvolte, tralasciava la definizione del contratto. Un sistema che però i finanzieri del comando provinciale di Enna hanno messo a nudo grazie a una serie di accurate indagini bancarie, grazie alle quali è stato possibile individuare i fondi agricoli interessati ed identificare i presunti autori dei reati.